Ciao, sono Luigi di Clarintux, Untux e per sempre. Benvenuti nel mio canale. In questo video vedremo finalmente di muovere i primi passi col terminale di Linux. Come già accennato in un video precedente, il terminale è a giorno d'oggi qualcosa di cui sicuramente si può fare a meno per effettuare delle operazioni che possono essere effettuate in modo grafico. Abbiamo su Linux diversi ambienti desktop e diversi strumenti grafici che ci permettono sicuramente di compiere le operazioni più disparate. Tuttavia, il terminale rimane uno strumento potentissimo e molto versatile che vi consiglio di imparare. Se imparerete ad usare il terminale bene, riuscirete a sfruttare il vostro computer in modo più efficiente, a volte più veloce e a compiere delle operazioni che prima non riuscivate a compiere, non riuscivate nemmeno ad immaginare. Davvero, è davvero consigliabile imparare ad usare a meno un minimo il terminale. Non abbiate paura. Allora, qua ci troviamo su Linux Mint. Possiamo accedere al terminale cliccando su questa icona oppure cercandolo sul menu oppure ancora con la pressione di tasti CTRL-ALT-T. Questa pressione di tasti è valida su Linux Mint, su Ubuntu e su alcune altre distribuzioni. Apriamo quindi il terminale. Ingrandisco un po' in modo che possiate vedere. E come vedete abbiamo qua un prompt dei comandi. Mint, la prima parte sta per il nome utente, poi abbiamo una chiocciola, poi abbiamo di nuovo Mint, questo sarebbe lo hostname, ossia il nome della macchina, poi abbiamo due punti e un simbolo che sta a indicare la cartella in cui stiamo lavorando, la cartella home in questo caso. Il primo comando che vi insegnerò è P-V-D che stampa la directory di lavoro corrente, la cartella su cui ci troviamo attualmente. Quindi P-V-D, premo invio e come vedete abbiamo Home Mint nel vostro caso sarà Home è il vostro nome utente quindi ci troviamo nella cartella Home dell'utente nella nostra cartella Home. Bene, direi di cominciare andando a creare delle sottocartelle in cui lavoreremo. Come si creano le sottocartelle? Si creano con mkdir Make directory Fai una directory Ne possiamo creare una, ad esempio test1 ma le possiamo creare anche diverse contemporaneamente Ad esempio test1 e test2 Premo invio e abbiamo creato queste due cartelle Per vedere se le cartelle sono state create utilizzerò il terzo comando che voglio insegnarvi l-est e l-s che serve a vedere il contenuto della directory in cui ci troviamo quindi se scrivo solamente l-s e premo invio vedrete che abbiamo diverse cartelle e le cartelle appena create test1 e test2 Per eliminare una cartella per cancellare una cartella che sia vuota utilizzeremo il comando rmdir remove directory Ad esempio vado a cancellare la cartella test2 L'ho cancellata quindi se vado a visualizzare a stampare di nuovo il contenuto della cartella in cui mi trovo con l-s vedete che test2 è sparita rimane però test1 Per spostarci su un'altra cartella scriverò cd change directory cambia directory quindi change directory test1 e quindi mi sono spostato sulla cartella test1 vedete che anche il prompt è cambiato e mi segnala che siamo su test1 Se voglio stampare la directory attuale scriverò nuovamente pwd e come vedete abbiamo home mint test1 all'inizio eravamo su home mint adesso siamo su home mint test1 Se scrivo nuovamente ls ovviamente non ottengo alcun risultato perché la cartella è ancora vuota bene andiamo a creare un file ci sono diversi modi per creare un file con il seguente comando vado a creare un file vuoto touch touch file 1 e contemporaneamente file 2 file 3 adesso riutilizziamo il comando ls per stampare i file presenti in questa cartella ls e come vedete abbiamo file 1 file 2 file 3 per cancellare un file utilizziamo il comando rm remove remove file 3 abbiamo cancellato il file 3 quindi se vado a ristampare il contenuto della cartella con ls abbiamo solamente file 1 e file 2 poi per tornare indietro sulla cartella superiore quindi di nuovo su home mint utilizzerò questo comando cd change directory punto 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 sta per la cartella superiore vedete che qua già è scomparso dal prompt test 1 ma se vado con il comando pvd per stampare la cartella attuale la directory attuale vediamo nuovamente home mint quindi non mi trovo più sulla cartella test 1 vi avevo accennato al fatto che non è possibile cancellare con il comando rm dir una cartella che non sia vuota adesso facciamo la prova remove dir test 1 vedete non è possibile cancellare la cartella test 1 perché non è vuota come posso cancellarla come posso forzare l'eliminazione di questa cartella beh con il comando che abbiamo già visto rm remove però questa volta con l'opzione r r sta per rimuovi in modo ricorsivo ossia quella cartella e tutto il suo contenuto quindi remove trattino r test 1 e vedete che questa volta non mi ha dato un messaggio di errore se vado con ls a stampare il contenuto di questa cartella non abbiamo alcuna cartella chiamata test 1 andiamo a ricrearla con il comando make dir mkdir test 1 e creiamo anche una cartella test 2 con il comando ls rivedremo quindi che le cartelle test 1 e test 2 sono presenti nuovamente ci spostiamo su test 1 con cd change directory change directory test 1 creiamo dei file abbiamo visto che è possibile creare dei file vuoti con il comando touch questa volta vogliamo scrivere qualcosa quindi utilizzeremo il comando nano nano è un test di editor da terminale non è l'unica opzione ci sono diverse alternative comunque in questo video utilizzeremo nano che è molto semplice nano file 1 scrivo nano file 1 premo invio ed eccoci nella schermata di questo editor qui possiamo scrivere tutto quello che vogliamo ad esempio il cane abbaia il cane è il migliore amico dell'uomo il cane va a passeggio il cane corre ho voluto scrivere un po' di volte cane per effettuare delle operazioni in seguito poi vedrete bene una volta che abbiamo finito possiamo salvare con ctrl o o direttamente con ctrl x per uscire e ci verrà chiesto di salvare quindi noi salveremo con s se abbiamo la versione in italiano io qua mi trovo ad avere la lingua inglese quindi salvo con y ci verrà chiesto il file il nome del file in cui salvare file 1 va benissimo quindi confermiamo siamo usciti e abbiamo salvato questo file se riscrivo nano file 1 vedete che abbiamo il file con il contenuto che avevamo creato esco di nuovo con ctrl x senza effettuare modifiche e adesso vedremo un comando per visualizzare su schermo il file il contenuto del file senza modificarlo senza editarlo il comando è cut cut file 1 vedete che qua abbiamo stampato il contenuto del file il cane abbaia il cane è il migliore amico dell'uomo il cane va a passeggio il cane corre andiamo ad editare un secondo file nano file 2 scriviamo il gatto fa le fusa il gatto ha i baffi il gatto beve latte ctrl x ci verrà chiesto di salvare noi confermiamo con s ci verrà chiesto il nome del file file 2 va bene quindi confermiamo con invio si chiude il file e possiamo visualizzare il contenuto con cat cat file 2 e come vedete abbiamo stampato il contenuto con cat è possibile concatenare dei file cioè visualizzarli assieme adesso visualizzeremo assieme il contenuto del file 1 e il contenuto del file 2 come vedete abbiamo un unico testo con il contenuto dei due file bene quindi abbiamo visto che cat non è solo per visualizzare un file ma è per concatenare un comando che non abbiamo ancora visto e che in realtà è molto importante è man cosa fa man? con man puoi vedere il manuale di qualsiasi altro programma di qualsiasi altro comando ad esempio man man e si apre il manuale per man e qui possiamo leggere tutte le opzioni se scriviamo ad esempio man cat come vedete vi spiega che è un comando per concatenare dei file e stampare a video e per stampare a video un'altra possibilità per ricevere aiuto su un determinato comando è help ad esempio scriviamo cat trattino trattino help e come vedete abbiamo qua delle informazioni ci dice anche qua che è un comando per concatenare dei file e poi ci mostra tutte le flag tutte le opzioni che possiamo utilizzare con il comando cat quindi ricapitolando per avere un aiuto sui comandi che vogliamo utilizzare abbiamo man oppure help il prossimo comando che voglio insegnarvi è grep grep viene usato per ricercare una stringa un determinato testo una determinata parola una determinata frase all'interno di un file come viene usato questo comando con grep apriamo poi i doppi apici poi scriviamo quello che vogliamo ricercare ad esempio gatto e il nome del file in cui vogliamo cercare ad esempio file1 adesso sul file1 c'era il cane non c'era il gatto quindi il risultato sarà niente se invece scriviamo cerchiamo gatto su file2 vedete che ha trovato tutte le occorrenze della parola gatto il gatto fa le fusa il gatto ha i baffi il gatto beve latte ed è anche evidenziato in rosso se cerchiamo cane su file2 ovviamente non abbiamo risultati cane stava sul file1 quindi grep cane file1 e abbiamo le quattro righe che avevamo scritto è possibile fare qualcosa del genere cat per visualizzare il file1 poi andiamo a indirizzare l'output di questo comando di cat file1 ad un altro comando lo si fa con questo simbolo con la la barra verticale con il pipe questo viene chiamato pipe quindi andiamo a scrivere cat file1 pipe e un altro comando che è sed sed è per sostituire un qualcosa oppure veramente per effettuare diversi tipi di operazione noi lo utilizzeremo però per sostituire un testo il comando viene usato così sed apici s slash poi scriviamo quello che vogliamo sostituire slash scriviamo il testo che vogliamo andare ad inserire di nuovo slash apici adesso avremo la sorpresa che sul file1 vedremo gatto tutte le occorrenze di cane sono state sostituite con gatto il gatto abbaia il gatto è il migliore amico dell'uomo il gatto va a passeggio il gatto corre in realtà il contenuto del file1 non è stato modificato se facciamo cat file1 vedete che il contenuto è sempre quello originario quindi sed in questa forma che abbiamo utilizzato è per sostituire del testo sullo schermo ma non nel file ovviamente è anche possibile cambiare modificare il file un'ultima cosa che voglio mostrarvi in questo primo video sul terminale è la possibilità di utilizzare i comandi come cd change directory oppure ls list stampa il contenuto della directory non solo utilizzando il nome di una cartella ma utilizzando il percorso assoluto ossia abbiamo visto che con cd punto punto ci spostiamo sulla cartella superiore e adesso siamo su home mint ma con cd posso anche utilizzare un percorso assoluto ad esempio usr share icons vedete cd il percorso assoluto e mi sono spostato su quella determinata cartella se scrivo solamente cd mi sposto invece sulla cartella home home nome utente quindi ricapitolando è possibile utilizzare cd in questo modo con un percorso assoluto ad esempio cd home mint test 1 ed è possibile utilizzarlo con il percorso relativo quindi solo con il nome della cartella quindi percorso assoluto percorso relativo la stessa cosa vale per ls ls lo posso utilizzare senza scrivere nient'altro e quindi visualizzerò il contenuto della cartella attuale oppure posso utilizzarlo con il nome della cartella ls test 1 e vediamo il contenuto della cartella test 1 oppure anche qua con il percorso assoluto ls usr share icons e vedo tutto il contenuto della cartella usr share icons nell'andare a scrivere dei percorsi assoluti non c'è bisogno di scrivere lettera per lettera ma posso utilizzare il tasto tab con il tasto tab o l'autocompletamento vedete che io scrivo us premo il tasto tab e già mi completa con r e slash scrivo sh premo il tasto tab e già mi completa con share scrivo i e stavolta non mi completa perché ci sono diverse opzioni che iniziano con i e se premo il tasto tab due volte abbiamo l'elenco delle diverse opzioni per cui se voglio andare su icons mi basta premere C a questo punto abbiamo solo questa possibilità con IC premo di nuovo il tasto tab e mi completa con icons direi che per questo primo video può bastare spero di essere stato sufficientemente chiaro ci rivediamo nel secondo video con altri comandi ciao dal vostro clarindux